Il CETA, il trattato di libero scambio tra Unione Europea e Canada, finisce nel mirino del Consiglio regionale del Piemonte e favorevole a una sua sospensione. Mette a rischio i nostri prodotti tipici. Rincarano Coldiretti, Slow Food e altre sigle che si oppongono all'accordo in corso di approvazione in Italia. Favorevoli invece il Governo e Confagricoltura. Sentiamo Federica Burbatti. La battaglia contro l'accordo CETA l'ha lanciata Coldiretti assieme a Legambiente, CGL, Slow Food e Feder Consumatori. In Piemonte sono già 297 i comuni che vi hanno aderito. Ieri la Regione ha approvato l'atto di indirizzo per la sospensione dell'entrata in vigore nel nostro paese del trattato che secondo i contrari legittima le imitazioni di tante eccellenze agroalimentari italiane, spalancando le porte all'invasione di grano duro e di carne ad azio zero. Secondo quanto stabilito dall'accordo CETA sarà possibile domani poter produrre degli stessi prodotti in Canada e poterli etichettare ad esempio con un simil parmigiano, un simil robiora di roccaverano, un simil carne di razza bovina piemontese. Questo accordo va a rasettare qual è l'eccellenza, la bontà, la bellezza e il fascino di questo grande piatto che sono i nostri prodotti agroalimentari. I prodotti diciamo che con questo accordo saranno equiparati ai prodotti nostri che ci mettiamo attenzione, qualità, tempo, esperienza. Il governo con il ministro all'agricoltura Martina dice che l'accordo va inteso come punto di partenza, come un'opportunità favorevole con l'agricoltura, stimola gli scambi, dice, elimina i dazi doganali, favorirà posti di lavoro e nuove opportunità per le imprese. Secondo un dossier preparato da Coldiretti, delle 291 denominazioni made in Italy registrate, ne risultano protette dal trattato appena 41. Chiaramente non sono tutti, ma rappresentano nello scambio attuale verso il Canada il 92% dei prodotti esportati. Teniamo presente che nella bilancia dell'export l'Italia esporta prodotti agroalimentari per 3,7 miliardi di euro e importa dal Canada prodotti per 1,5 miliardi di euro. Quindi la bilancia per noi è in attivo di 2,2 miliardi di euro.